ciao ragazzi è arrivato il momento di svuotare la mia makeup collection fare un po di ordine e buttare tutti i trucchi che non uso che non mi servono che non riesco a usare perché ne ho troppi ho pensato di fare una serie video decluttering in cui insieme a voi scegliamo cosa tenere cosa buttare voglio fare una bella pulizia e veramente liberarmi di tutto ciò che non uso proprio per questo saranno video un po lunghi quindi ho pensato di dividerli per categorie e oggi iniziamo con il video decluttering dei rossetti rossetti liquidi stick matite tutto ciò che riguarda le labbra fatemi sapere se l'idea di questa serie video decluttering vi piace e soprattutto quale sarà il prossimo video cosa vorreste vedere decluttering palette ombretti illuminanti fondotinta scrivetemelo giù nei commenti così la prossima categoria più votata uscirà appunto come video e ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto detto questo io inizierei ho paura ma sono pronta a liberarmi di tutti questi trucchi direi di iniziare facendovi vedere la situazione dei miei cassetti che contengono i trucchi questo qua principalmente è il cassetto dei rossetti stick anche se in realtà vedete che ce ne sono molti anche liquidi perché non ci stavano nel cassetto di sopra tra l'altro ho dei contenitori super comodi che però vi farò vedere meglio durante la make up collection che faremo alla fine in questo cassetto invece ho principalmente rossetti liquidi matite per labbra e poi tutti i gloss anche qua un sacco di cose da selezionare ci siamo ragazzi è il momento di iniziare qua davanti a me ho messo i primi rossetti da selezionare poi due scatole quella più piccola per i rossetti da buttare secondo me non saranno tantissimi quindi abbastanza piccolina mentre qua metteremo tutti i rossetti che darò via sia perché non mi piacciono più sia perché ce li ho da troppo tempo non li uso io inizierei con i rossetti di mulac che negli anni ho voluto collezionare però l'anno scorso già ne ho regalati un po dato che ultimamente non li sto usando molto e sono diventati abbastanza vecchi onestamente quindi mi piacerebbe tenere solamente i colori che uso tanto per esempio questo rossetto è molto rovinato ed è santa claus è un bel rosso però abbastanza cremoso quindi il rossetto che io non uso questo qua è il rossetto blu che non ho mai usato in giro devo essere onesta però voglio tenerlo perché non ne ho un altro uguale marylin è uno dei miei rossetti preferiti di mulac infatti si vede l'ho usato tantissimo oppo invece è un verde guardatelo qua so io sono indecisa su sti colori li tengo sempre pensando che mi potrebbero servire per qualche trucco artistico però poi non li uso mai shock invece un rosa super elettrico e lo regalo perché non lo uso mai poi per fare in fretta seleziono già tutti i rossetti li metto qua che so di regalare eccoli non perché non siano belli anzi sono molto buoni come rossetti però ci sono costante novità che alla fine le cose vecchie non le uso mai no un arancione troppo per me anche questo lo regaliamo questo è molto bello come colore si chiama golden age bello questo lo tengo questo qua non so neanche perché l'ho tenuto onestamente non è proprio il mio genere come rossetto un bel grigio il grigio lo tengo sempre per il discorso makeup artistici è l'unico rossetto cremoso nero che ho quindi lo tengo io ragazzi li terrei tutti perché sono bellissimi però poi questi ragazzi non li ho mai aperti quindi dato che sono nuovi li regalo a qualcuno quindi questo è il mio gruzzoletto di rossetti mulac che terrò passiamo invece a nabla e l'oreal qua davanti allora io inizierei subito eliminando questo rossetto di debora milano questo qua mi spiace un sacco perché il rossetto che ho comprato a new york di milani però penso di non averlo quasi mai usato forse una volta non di più però sta diventando un po vecchio quindi è arrivato il momento di regalarlo mio malgrado anche questo di kate non ho il coraggio di regalarlo perché è stato forse tra i miei primi rossetti in assoluto però non lo uso mai qua davanti invece abbiamo una selezione di rossetti l'oreal questo è bellissimo della collezione mary poppins però leggermente cremoso quindi alla fine non lo uso di rossetti l'oreal ho deciso di tenere questi due nude perché sono veramente molto belli mentre do via questo colore super scuro perché non l'ho mai nemmeno swatchato e poi questo rosino perché non è molto pigmentato quindi non lo uso mai i rossetti di essence invece li voglio tenere per avere delle opzioni low cost e poi qua dietro ci sono i rossetti in stick puro bio oddio sono tutti sporchi di colla vediamo se anche gli altri oddio si guardate sarà che con l'estate la colla si è sciolta non so se è riuscito a vedere il bordino sotto è tutto tutto sporco di colla anche qui si vede creano proprio dei fili voi non riuscirete a vederli ma guardate tipo ragnatela si vede boh vediamo se riesco a pulirli sto facendo un pacciugo io questi ragazzi mi sa che li butto anche se mi spiace un sacco perché sono bellissimi e volevo tenerli quasi tutti ma sono rovinati sono pieni di colla questo è pulito questo pure e questo è rotto bene quindi buttiamo anche questo mi dispiace molto carino come colore quindi lo tengo anche questo lo do via perché è un po chiaro e rosato mentre questo mi ispira tantissimo quindi lo teniamo arriviamo a nabla ah no in realtà qua c'è anche un rossettino di nars che voglio tenere perché mi piace moltissimo ne avevo due ma nello scorso trasloco il più bello l'ho perso era un rosso molto intenso questo è più aranciato qua dietro ci sono i primi rossetti usciti con nabla questi rossetti li uso molto poco anche se sono molto belli quindi non so che fare ho fatto la mia selezione questi li regalo mentre questi li tengo e sono esattamente questi qua che vedete nell'angolino perché sono colori molto belli particolari secondo me questi cinque li tengo tutti perché sono tra i miei preferiti in assoluto in particolare vi faccio vedere magnolia che ha un nude meraviglioso mi piace tantissimo soprattutto d'inverno e l'altro colore che adoro invece è touch me un po più scuro bellissimo poi passiamo a questi che devo essere onesta non ho mai usato sono nuovi quindi mi sa che li regalo le cose nuove approfitto per regalarle in modo da avere appunto anche prodotti non toccati da dare ai miei amici vedete sono bellissimi ma non li ho mai usati questo l'ho usato vediamo wow bellissimo somiglia un sacco all'altro però onestamente non riesco a vedere la differenza quindi lo tengo semplicemente per metterli meglio a confronto anche qui abbiamo svuotato il cassettino passiamo ai rossetti pupa ne ho tanti e non li uso praticamente mai devo confessarvi questa cosa guardarli tutti è un po' una palla perché sono tantissimi e la cosa che non mi piace di questi rossetti è che non si capisce il colore dal packaging non so se avete visto ma di questi rossetti tantissimi non li avevo mai nemmeno svociati quindi ho proprio fatto a meno di farlo così che rimanessero nuovi ne ho tenuti diversi molto belli devo dire per esempio questi matt stupendi questo bellissimo nude sono diciamo pochi rispetto al numero di prima però era inutile tenere cose che non avrei mai usato li metto qui insieme a quelli di mulac tanto adesso c'è spazio la scatola dei prodotti da regalare è quasi piena questi swatch sono di tutti i rossetti ho deciso di tenere questi quattro perché sono i più particolari secondo me questi tre vedete sono veramente bellissimi e poi questo rosso molto intenso anche perché ha un'ottima durata questo rossetto qui i miei rossetti di mac ve li faccio vedere così perché vi dico subito che non ho intenzione di regalarli quindi guardateli qui bellissimi in realtà c'è questo rossetto qui che si chiama vegas vault che non uso mai perché non è molto bello non è particolarmente pigmentato ed è super cremoso quindi è l'unico che stavo pensando di dare via però devo trovare il coraggio no non riesco no mi dispiace questi quattro invece sono i rossetti liquidi di shiseido ho deciso di tenere solamente questi due poi qui ho il riri u che sarebbe la versione firmata da rihanna del rossetto rubiku di mac che è veramente bellissimo quindi ovviamente lo tengo poi è un'edizione limitata stupenda mentre questo qua era un rossetto di dior che ho comprato all'epoca del mio periodo di shopping compulsivo in cui tipo volevo comprare le cose solo per avere qualcosa di quel brand non giudicatemi il fatto che io lo ammetta in realtà penso che sia un passo avanti lo terrò perché è comunque un rossetto molto costoso quindi non me ne disfo così facilmente però è stato un acquisto sbagliato passiamo poi ai tre rossetti di lime crime che ho comprato a new york ragazzi io amavo questi rossetti adesso non li uso più perché hanno dei colori un po' particolari guardateli qui comunque non so se notate ma la mia voce è cambiata da quando ho iniziato a registrare il video che sta andando via e poi c'è questo violetto pazzesco questi mi sa che li regalerò addio forse ne tengo solo uno e che allora il problema qual è che mi piace da morire il pack quindi mi dispiace darli via almeno uno voglio tenerlo terrò il viola rossettino collister mai usato benekos mai usato nemmeno questo però è già stato sbocciato eccolo qui molto carino devo dire lo regaliamo questo è un bellissimo rossetto di Kiko guardate che bello quindi lo tengo rossettino Revlon è un nude molto cremoso super chiaro a base fredda quindi questo è un rossetto di Berry M che ho da anni ragazzi anni via il bello di provare tanti prodotti è che so colpo d'occhio quali mi starebbero bene e quali no quindi capisco quali tenere ed eccoci qua abbiamo fatto anche qui una bella pulizia vado più veloce altrimenti non finiamo più questi sono i rossetti da regalare tutti questi lip paint di L'Oreal sono abbastanza vecchi mi piacevano molto in passato però col fatto che voglio sempre provare novità non li uso mai poi qua c'è la collezione dei supereroi di Maybelline che era molto buona e ho ottenuto questo nude che mi piace tantissimo questi rossettini di Revolution invece li ho ottenuti quasi tutti perché mi piacciono veramente moltissimo regalo solo questi due colori perché uno è troppo chiaro l'altro è un po' troppo shocking vedete mentre tutti questi rossetti Astra a parte che non li ho mai usati ve li ho fatti vedere solo nell'unboxing che ho fatto qualche settimana fa però vedete sono metallizzati a me i rossetti metallizzati non piacciono quindi via questo rossetto è super particolare perché ha un'apertura fighissima e poi dentro è doppio e poi come vedete qua ci sono tutti i miei rossetti di Clio Makeup Shop perché mi piacciono tantissimo sono veramente ottimi e non ho nessuna intenzione di regalarli guardate che belli mi sa che devo prendere un'altra scatola questi sono i rossetti di Pixi che mi piacciono un sacco quindi li terrò praticamente tutti tranne questo colore molto freddo che non uso mai mentre questi sono i rossettini liquidi di Makeup Delight per Cosmite Pie anche questi mi piacciono molto però questi colori come vedete sono un po' particolari e non li uso più che altro perché non mi stanno bene quindi ho deciso di regalarli questi rossetti di NYX come potete vedere sono ancora impacchettati e sono rossetti liquidi metallici come vi ho detto non uso rossetti metallici però ogni volta li tengo perché mi piacerebbe sperimentare ma non lo faccio mai mentre questi sono colori strani, stranissimi ah qui c'è anche un rossetto di Jeffree Star ed è l'unico rossetto liquido che ho di questo brand l'unica cosa che non mi piace per niente a parte che ho preso un colore un po' chiaro ma poi mi secca tantissimo le labbra si sgretola, lo odio la stesura è fighissima dai tengo anche questo e questi li regaliamo questi 5 rossetti sono gli Everliquid Lipstick di WeMakeup e li terrò tutti così come anche questo rossetto liquido di Mesauda perché sono molto belli volevo farvi vedere anche la mia collezione di rossetti liquidi di Nabla e di Clio Makeup Shop questi ragazzi ve li faccio vedere ma in realtà li avevo già selezionati l'anno scorso dandone via alcuni e questi colori mi piacciono tutti e quindi non ho intenzione di regalarli me li tengo tutti stretti stretti mentre sono un po' indecisa su questi rossetti di Fenty Beauty perché me li hanno inviati l'unico problema è che sono colori un po' strani ce ne sono anche di più naturali nella collezione però questi adesso ve li faccio vedere tutti sono molto particolari forse terrei il nero io purtroppo come sapete sono una persona molto semplice molto basica non amo i colori troppo sgargianti sono bellissimi però non me li vedo molto addosso facciamo uno scambio tengo questo rossetto verde di Fenty Beauty e regalo il rossetto verde di Mulac praticamente sono uguali beh quello nero comunque lo tengo per sicurezza e poi anche il rosso shock il viola invece lo regaliamo e questo qui sono indecisa perché non l'ho mai usato quindi mi piacerebbe provarlo prima di regalarlo tutti questi rossetti sono nuovi non ho ancora avuto occasione di provarli quindi me li tengo appunto questo è invece uno dei nuovi rossetti di L'Oreal che ha una texture super sottile non sono particolarmente pigmentati però mi piaceva l'idea di testarli per magari avere un rossetto un po' leggerino quando non si vuole niente di pesante sulle labbra anche questi di Revlon non li ho mai usati ne ho diversi colori vedete? però sono tutti nuovi poi abbiamo un rossetto liquido di Flormar wow che texture non l'avevo mai neanche swatchato è pazzesco super matte quindi tutti questi teniamoli per fare delle prove questi invece sono i rossetti liquidi di Tia Taylor questi tre colori li regalo mentre mi tengo il verde e il nero sono veramente pazzeschi io di solito non uso questi rossetti però sono molto belli e poi il marrone e il rosso ho trovato altri rossetti di Molac questi qua sono della Womanly Collection non li uso mai però ragazzi a parte che sono molto rosati i rossetti di questa collezione e a me i nude rosati non piacciono quindi li regalo mentre questi qua vediamo come sono un rossetto metallico via questo vedo già che è troppo freddo per i miei gusti purtroppo tutti i rossetti così freddi a me stanno malissimo essendo super olivastra wow guardate questo no questo lo tengo perché è metallizzato ma è pazzesco adesso vi faccio vedere i miei rossetti liquidi preferiti mi piacciono tantissimo sia il Superstay Matte Ink di Maybelline che i rossetti Le Chocolat di L'Oreal perché sono i rossetti liquidi in assoluto più long lasting che io abbia mai provato vi deve piacere l'effetto un po' pesantino diciamo che si sentono sulle labbra ma non seccano mai cioè sono una roba allucinante con questi mi lavo i denti mangio faccio qualsiasi cosa e non vanno via infatti dovete avere un buono struccante per toglierli mi fanno impazzire sono i rossetti che uso sempre quando devo stare fuori tutto il giorno infatti vedete che ne ho diversi quindi non ne regalerò nessuno mi piacciono tantissimo anche questi rossetti di Nars che si chiamano Power Matte Lip Pigment sono veramente ottimi io ne ho solo due colori ma ve li strastra consiglio anche questi a lunga durata mi piace tantissimo anche questo rossetto liquido di Huda Beauty che però non è molto long lasting va via facilmente e poi adoro questi rossetti liquidi di Glossip il rosso in particolare era il mio preferito in assoluto qualche anno fa e poi ho trovato anche questi rossetti liquidi di Clio che non ci stavano nel cassettino questi rossetti sono di Pupa poi ne abbiamo uno di Deborah e uno di Rimmel li volevo tenere tutti però sento che perdono ce n'è qualcuno che perde il gloss forse è questo questi sono super unti ragazzi e non voglio robe unte nella mia makeup collection quindi li pulisco perché non riesco a capire da dove arriva la perdita la prossima volta che li prenderò in mano butterò quelli che perdono bello questo lo tengo anche questo è molto particolare quindi lo tengo alla fine ne tengo tre ovviamente tengo tutti i miei super stay in crayon sono dei matitoni di Maybelline usciti da poco mi piacciono molto perché sono veramente a lunga durata pur restando morbidi sulle labbra l'unica cosa è che i colori scuri tipo questo rosa così tingono molto le labbra lasciano molto colore però per esempio il nude che è il 20 mi piace un sacco il rossetto che indossavo all'inizio del video è veramente bellissimo qui invece ho questi rossetti di Revlon che devo essere onesta non ho praticamente quasi mai usato perché una volta ne avevo provato uno e non mi era durato molto quindi quando non ho una prima impressione ottima col prodotto io a volte lo metto da parte ed è capitato con questi sarebbe però tenere qualche colore per dargli una seconda opportunità oddio questo è un po' strano tengo questi due alla fine perché mi ispirano come gloss ufficialmente non ci sta più niente nella scatola ne prendo una più grande non mi sembra vero sto vedendo una fine non ne mancano molti questi sono i miei rossetti liquidi di Astra ce ne sono tantissimi colori e ne ho già regalati parecchio perché erano tantissimi vi dico questi li voglio tenere quasi tutti onestamente perché mi piacciono e voglio sempre avere delle opzioni low cost da proporvi nei video magari posso dare via i colori un po' strani però questo bel marrone mi piace sembra freddo ma in realtà è molto bello poi c'è questo arancione che mi spaventa ok questo lo regalo il rosa ve lo faccio vedere però penso di tenerlo perché wow è bellissimo anche questo è molto bello questo invece è uno di quelli che voleranno mi sa sì decisamente odio questi colori bello questo ed eccoli qua quelli che teniamo poi abbiamo il cassettino dei rossetti un po' vari in realtà qui ci sono quelli di Siate London che diventano glitterati premendo le labbra vi avevo fatto un video e questi li voglio tenere perché sono un po' particolari poi ci sono alcuni rossettini di Deborah Milano anche questi li tengo perché sono molto belli e avevo già fatto il decluttering di tutti gli altri ne ho regalati tipo 10 poi come vedete ci sono i rossetti di Jacqueline Hill che non sto più usando se conoscete lo scandalo sapete perché me li hanno rimborsati perché tutti quelli che hanno comprato questi rossetti sono stati rimborsati al 100% me li voglio tenere per ora anche se non so se li userò e poi qui ho dei rossetti vari questo per esempio lo regalo questo di Smashbox è molto bello lo tengo ed infine Metal Film Wicon questo mi sa che lo regalo sì questo rossetto di Sigma è molto bello onestamente però secca un sacco le labbra quindi via anche se mi spiace dar via l'unico rossetto di quel brand voglio sempre avere qualcosa di un brand sono malata questo rossetto matt di Kiko non so perché l'ho tenuto perché è un colore assurdo ok wow io queste cose so perché le tengo perché sono particolari mi piace avere roba particolare però non le userò mai vabbè lo tengo questi due rossetti liquidi di Sephora li voglio tenere così come i miei rossetti Lime Crime questo rossetto di Kat Von D è molto bello guardate ragazzi è glitteratino però secondo me per Natale è fighissimo mentre passando a livello di Tink di Mulac non so cosa fare perché onestamente a me come formula non piace molto mi sa che ne tengo giusto un paio per avere come riferimento sono liquidissime cioè non capisco probabilmente perché sono ferme da un po' e vanno sgicottate questo colore è molto bello via tengo solo queste tre eccoli qua questi sono gli ultimi rossetti in stick usciti di Nabla sono della Feather Collection e questi sono bellissimi ci sono i tre texture diverse non mi piacciono tutti i colori però li tengo perché li uso come soprammobili sulla cassettiera cioè li uso alcuni però comunque anche quelli che non mi piacciono li tengo proprio per questo motivo in generale sono rossetti veramente bellissimi e il di pet è stupendo vi ho portato qua anche alcuni dei miei rossetti appunto quelli che ho creato io in collaborazione con Cosmify ovviamente questi li tengo tutti poi ne ho un sacco in casa e niente volevo solo farveli vedere non li ho presi tutti perché non volevo portare qua ogni cosa avrei tanti altri rossetti da farvi vedere questi per esempio sono rossetti abbastanza nuovi che non sono ancora riuscita a mettere nella makeup collection perché non c'era spazio Gloss ragazzi ho deciso di risparmiarveli non vi faccio vedere il decluttering perché questo video sarà già durato tantissimo questo per esempio è un bellissimo rossetto di Makeup Delight il numero 13 penso che sia Pumpkin Spice Latte credo ma non ne sono sicura tutti questi li tengo perché alcuni devo ancora provarli quindi questo è il risultato del nostro decluttering sono tutti i rossetti che regalerò molti come avete visto sono nuovi quindi sarò felicissima di regalarli questi qua invece sono gli unici che butterò mi spiace sempre buttare le cose però come avete visto lasciano tutto il liquido sono tutti sporchi rovinati quindi andranno in spazzatura e adesso mi tocca sistemare la makeup collection perciò ragazzi direi che per oggi ci siamo liberati di abbastanza trucchi vi ricordo di lasciare un pollice in su se volete vedere un altro video della serie decluttering e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto io ovviamente vi aspetto anche su instagram dove mi trovate sempre come Gaia Visco Gilardi e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi